Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ancora insieme Stefano De Martino e Gilda sono tornati insieme? Ieri 26 novembre 2017 la famosa ballerina e coreografa Maccia del Prete ha festeggiato con gli amici più cari il suo 32esimo compleanno. Stando alle news di Gossip.it, alla festa erano presenti anche Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Un dettaglio che di certo ha incuriosito parecchio i fan. Secondo il gossip De Martino e Gilda si sono detti addio dopo pochi mesi dall'inizio della loro relazione. Il motivo della rottura è rimasto un mistero dal momento che nessuno dei due ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Maccia e Stefano hanno lavorato spesso insieme per via della danza. Negli anni i due sono diventati anche ottime amici. L'ex marito di Belen Rodriguez appare divertito durante la festa, ma i fan continuano a chiedersi se fosse lì insieme a Gilda o se si tratti solamente di una coincidenza. Stefano e Gilda potrebbero essere rimasti in ottimi rapporti, oppure questo potrebbe essere l'indizio di una loro riconciliazione. Stefano è tornato a vivere a Milano per Gilda. De Martino e Gilda Ambrosio sono stati molto riservati sin dall'inizio della loro storia, per tutta l'estate si sono infatti frequentati in segreto nonostante i paparazzi li abbiano beccati più volte insieme. De Martino per stare più vicino a Gilda e al figlio Santiago è tornato a vivere a Milano, ma il loro amore sembra essere finito all'improvviso.